Musica Dovete sapere che lavorano tantissime persone come veterinari, biologi, esperti di mapiferi marini, proprio come me Ma adesso sono qui sul palco tutto solo e avrei bisogno dell'aiuto di qualcuno di voi Vediamo Chi vuole diventare un esperto di mapiferi marini? E' il tema da te E' un po' di mani alzate oggi, masco Ragazzi aspetta un attimo, forse l'ha trovato Questo ragazzo con la camicia arancione, in prima fila Sì sì ce l'ho proprio con te No 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 ce l'ho con te Alza i piedi Ma come ti chiami? Andrea Ragazzi come dite Andrea va bene? Andrea, Daddy No Mamma Come no ragazzi, diamo una possibilità Forza un grande applauso per Andrea E' un grande applauso per Andrea Sì bravissimo, guarda la tua scala E prendi il piroccolo che trovi proprio qui vicino